in realtà vi volevo parlare del mio disco che è in uscita, lo stiamo registrando, si chiama Il Sogno di Parteno, poi io mi trovo a Napoli e stiamo facendo partire il crowdfunding crowdfunding, crowdfunding, mi pare che si dica così Il Sogno di Parteno, poi io mi pare che si dica così a me la porta ma che si avula te crowdfunding e niente chiedo veramente lo straiuto per la produzione, lo straiuto per la produzione, lo straiuto per la produzione ok, allora facciamo un attimo, più veloce ancora no? la mia produzione ha messo la metà dei soldi necessari per... e infatti qua stiamo pensando di eliminare il maggiore, lo stavo cercando prima di trovare delle soluzioni fatto molto quindi con le voci eccetera e poi quasi sempre pedale capito? quindi qua possiamo sbagliare come vogliamo ma pure accordi messi su, qua poi decidiamo appunto se usare la classica ci sono, ci sono un paio di pezzi, questo è presente la Scalinatella dove noi vogliamo registrare delle tracce di ognuno, poi facciamo veramente in post produzione e montiamo, capito? che questo è un pezzo che deve crescere ma ci siamo fredati comunque da una parte e quindi l'altra metà la chiedo a voi perché è un disco importante per me, è un disco che mi ha fatto ritornare a Napoli dai territori d'oltre Alpe e vorrei parlare in maniera nuova della mia città che è appunto Napoli e raccontarvela in una maniera strana in una maniera forse elegante ma anche bizzarra Katari, Katari tu non lo sai che finita una chiesa i sottrasuti ha già priata a Dio Katari, ella già ditta puro confessore Sto a soffrire Sto a soffrire Perché non l'hai Sto a soffrire Sto a soffrire Non si può credere Sto a soffrire Tutte le strazioni E un professore che è persona santa Marito figlio mio La solestà La solestà La solestà La solestà La solestà Ciao Un saluto dallo studio di registrazione Stiamo lavorando Per cui andiamo continuiamo a lavorare Ciao a tutti Grazie 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 Grazie